Bella raga, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale Oggi raga, fatemi un glitch per andare in modalità passiva ma con le armi Ciò cosa vuol dire? Che potremo farci i cazzi nostri lobby con le armi in mano Cioè possiamo interagire con gli NPC, fare le missioni di freemode e tutto quello che riusciamo a fare Comunque i player, la gente che sta nella lobby non ci potrà rompere i coglioni Quindi potremo startare delle vendite, potremo fare qualcosa di carino senza che nessuno ci stressi E quindi ragazzi, secondo me è un glitch veramente utile Non ci incischiamo e iniziamo Entriamo in un qualsiasi negozio di vestiti raga e ci mettiamo qua davanti al bancone In modo tale da avere in alto a sinistra la scritta premi freccia destra per eccetera eccetera Quindi raga, a questo punto dobbiamo partecipare su Anawak più volte In modo tale da velocizzare il recupero su Anawak Quindi accetteremo il primo messaggio e rifiuteremo il secondo messaggio Facciamo questa cosa per tre volte A questo punto, come l'abbiamo fatta per tre volte, quando andremo a partecipare su Anawak ci darà il recupero istantaneo Quindi prima di partecipare su Anawak ragazzi, cosa andremo a fare? Apriamo il menu interazione, andiamo su ucciditi, ci uccidiamo Partecipiamo subito su Anawak dal menu di Play o di Xbox ragazzi E rifiutiamo il messaggio che ci darà Perché ci darà solo un messaggio, guardate bene E sarà il secondo A questo punto lo rifiuto Schiaccio freccia destra vicino al bancone E aspetto che mi spawna fuori A questo punto raga, quando saremo fuori Saremo buggati Saremo in passiva Ragazzi, con le armi Perché adesso vi faccio vedere Vado a cercare qualcuno Praticamente gli NPC vedete che li posso colpire C'ho le armi, ma quando mi avvicino a un player Risulterò trasparente io a lui e viceversa La cosa bella è che siamo mezzi in god mode ragazzi Perché praticamente noi se ci spariamo addosso Danni da caduta non ne abbiamo Gli NPC non ci potranno fare niente Ma la polizia raga ci farà danno Quindi praticamente è una sorta di passiva Una god mode Una protezione per noi stessi E questo glitch è una figata Secondo me è veramente utile Ditemi voi cosa ne pensate Lasciate un like, lasciate un commento Supportate Xavix Condividete i miei video E attivate le campanelline Bella raga, alla prossima Sbada bam Sbada bam Sbada bam